Buongiorno, mi chiamo Guglielmo Stagnolo Contre e sono il fondatore della startup agricola StraBerry, è un'azienda agricola alle porte di Milano, coltivo fragole e frutti di bosco sotto delle serre fotovoltaiche, sopra le quali i pannelli fotovoltaici producono energia che è fornita a 5.000 persone nell'interno milanese. Le fragole vengono prodotte e coltivate a circa un metro e mezzo da terra, con la tecnologia del fuorisuolo e vengono vendute sia all'interno della GDO che tramite delle apicar che io chiamo StraBerry itineranti per Milano.